L'impiantus elettrico è il software rack per la progettazione degli impianti elettrici civili ed industriali in bassa tensione. In realtà l'impiantus elettrico fa parte di una collana di progettazione degli impianti, che è appunto l'impiantus, dove è possibile progettare, stando sempre sullo stesso architettonico, diverse tipologie di impianti, in particolar modo impianti antincendio, impianti gas, impianti elettrici e impianti idraulici. Ma vediamo quindi come si affronta il progetto di un impianto elettrico con gli strumenti messi a disposizione dal programma impianto. Sebbene vi apro un file con i dati generali, dove troviamo che cosa? La prima cosa da osservare è l'interfaccia. Vedete qui sulla sinistra abbiamo un albero di navigazione che presenta tutta una serie di nodi. Selezionando uno di questi nodi a destra si abilita un editor nel quale andare a inserire i dati di quello specifico nodo, quindi committente, tecnico, i dati dell'edificio e poi aggiungere quello che è l'impianto che vogliamo progettare. Ecco qui nella ribbon in alto aggiungiamo l'impianto elettrico e questa condizione ci va a nutrire l'albero di navigazione di ulteriori nodi. In particolar modo osserviamo l'impianto elettrico, i quadri, quindi tutti i nodi che poi andremo a toccare nelle varie fasi della progettazione. Uno di questi vedete anche l'archivio documento che sarà l'archivio del nostro progetto, cioè l'archivio all'interno del quale noi troveremo tutti gli oggetti che faranno parte di quell'impianto. Ma da dove verranno presi questi oggetti? Ebbene nella fase di progettazione noi acquisiremo tutte queste entità dagli archivi che il programma ci mette a disposizione. Eccolo qui l'archivio elettrico che possiamo aprire direttamente dalla ribbon in alto e qui troviamo che cosa? Tutta una serie di cataloghi di produttori di materiale elettrico, per ognuno di esse è presente un determinato tipo di componente, per esempio selezioniamo l'archivio Bticino 2012, possiamo accedere proprio all'archivio per andare a interrogare appunto gli elementi in esso inseriti, per esempio se andiamo quindi sul nodo componenti troveremo qui una tabella che io chiamo anche intelligente perché è possibile su di essa fare dei filtri, fare dei raggruppamenti, quindi possiamo raggruppare per tipologie e quindi individuare tutte le famiglie, in questo caso le famiglie dei magnetotermici, tra le quali possiamo ulteriormente filtrare magari in funzione della corrente, vogliamo individuare tutti i magnetotermici di 16 A, eccoli qui diciamo filtrati. Cosa c'è all'interno dell'archivio? Ebbene se andiamo ad esplodere il dettaglio tecnico dei componenti troveremo la scheda dettagliata di questo specifico magnetotermico che abbiamo selezionato, quindi le caratteristiche termiche, le curve di intervento, le curve dell'energia passante, quindi tutte le caratteristiche tecniche che già trovate inserite all'interno del programma. Laddove non ci fossero degli elementi che volete utilizzare all'interno della progettazione, comunque il programma vi mette a disposizione un archivio utente, l'abbiamo chiamato, che è quello simboleggiato, vedete, con una testolina, con il quale potete aggiungere all'interno tutti gli elementi che magari non sono presenti nell'archivio del programma. Quindi attraverso le funzionalità che trovate qui a destra, più aggiungi nuovo elemento, quindi duplica, eccetera, potete popolare questo archivio anche per poi utilizzarli nei progetti futuri che andrete a realizzare. Quindi questa è la modalità di gestione degli archivi. Torniamo alla progettazione dell'impianto che parte dalla indicazione di alcuni dati di carattere generale, diciamo appunto per fare anche poi un po' di contenuti per la relazione tecnica, quindi qui scriveremo informazioni appunto di carattere generale, eccetera, eccetera, mettiamo anche una descrizione, la tipologia di intervento laddove poi volessimo anche redigere la dichiarazione di conformità di questo impianto che andiamo a progettare e quindi vedere qui, indicare già quale sarà l'archivio di default che il programma dovrà utilizzare per individuare gli archivi e gli elementi per il dimensionamento delle protezioni. Indichiamo, diciamo, Bicino 2012, ma è una scelta che è possibile anche derogare in un secondo momento. Se l'impianto poi è di pertinenza di una unità residenziale possiamo anche esplicitarlo in modo tale che il programma possa, alla fine della progettazione, fare anche la valutazione del livello prestazionale di quell'impianto. Quindi indichiamo qual è l'unità abitativa Rossi. Ovviamente il programma ci consente di effettuare la progettazione di diverse, diciamo, unità immobiliari contemporaneamente, per cui qui possiamo anche avere più unità abitative in modo tale quindi da fare in un unico progetto anche la valutazione di più unità abitative. Ed è chiaro che qui adesso non c'è nulla, ci saranno i dati quando avremo terminato il progetto, poi ci torneremo in un secondo momento. E andiamo quindi a progettare l'impianto. Ecco qui, diciamo, dove si progetta l'impianto. Ebbene, l'impianto us elettrico, come tutti gli impianti, si utilizzano un CAD a oggetti grafici parametrici per la progettazione degli impianti, quindi non un CAD di XF o di VG, ma un CAD che utilizza oggetti specifici, che sono quelli che troviamo qui sulla parte sinistra, diciamo, della tavola. Quindi abbiamo qui quadri, cassette di derivazione, pod set, diciamo tutti oggetti, ecco il qui interruttore di vario tipo, che ci serviranno nella creazione, io dico, del modello dell'impianto elettrico. È pur vero che però per poter fare poi anche degli esecutivi planimetrici è necessario andare a disporre questi oggetti su un architettonico, quindi su una piantina, su un qualche supporto grafico già esistente. Oppure se non c'è, possiamo eventualmente disegnarlo con gli strumenti di impianto. Se per esempio abbiamo la necessità di disegnare una piantina, abbiamo gli oggetti architettonici, vedete qui, specifici per disegnare muri, per disegnare porte, finestre, quindi creare un minimo di architettonico direttamente proprio sulla tavola di lavoro. Vedete, non sto tirando linee, sto tracciando proprio oggetti. Oppure magari ci viene fornita una piantina in formato cartaceo dalla committenza, quindi a quel punto possiamo sfruttare sempre tra le funzionali del programma all'oggetto raster, con il quale, dando sulla tavola, possiamo quindi acquisire l'immagine che ci viene fornita, come dicevo, dallo scanner, perché la andremo a scannerizzare poi in maniera opportuna. Magari è questa la piantina che dobbiamo sfruttare, magari dalla scannerizzazione viene distorta, anche non in scala, ma possiamo sfruttare però questi comandi che ci consentono, quindi velocemente, anche di effettuare un raddrizzamento dell'immagine, quindi per renderla più, eccola qui, diciamo, più o meno dritta, ed effettuare anche una scalatura, una volta note, delle dimensioni reali. Quindi qui abbiamo questo rettangolo che è 15 metri per 7 a 90, e quindi andiamo ad effettuare questa scalatura, quindi eccola qui, diciamo, l'operazione che si va ad effettuare per ottenere quindi un disegno di scala, confermare e avere sulla tavola lo sfondo sul quale poi andare a costruire il nostro impianto. Questa poteva essere un'altra situazione, una ulteriore situazione potrebbe essere quella secondo la quale io abbia progettato il mio architettonico con Edificius, che è il programma H per la progettazione architettonica. Ebbene, in quel caso possiamo sfruttare la potente integrazione BIM con la quale appunto l'impianto elettrico va a catturare quella che è la sola parte architettonica di Edificius e quindi importarla per ragionarci poi per l'impianto elettrico. Questa è un'ulteriore considerazione. L'ultima, diciamo, ma non in ordine di importanza, ma giusto perché è nella scaletta, è la possibilità di avere a disposizione un disegno elettronico, quindi un CAD, un DXF, un DVG. Ebbene, in questo caso, anche qui il programma ci dà la possibilità di poter importare una piantina in formato DXF o DVG. Andiamo a definire alcuni parametri di posizionamento. Ebbene, supponiamo sia questo il nostro disegno CAD. E' pur vero adesso che noi potremmo già fare il dimensionamento dell'impianto elettrico, però se siamo interessati, come lo siamo in questo esempio, a valutare anche il livello prestazionale dell'unità immobiliare, dobbiamo comunque fare una rilucidatura del disegno attraverso però degli strumenti un po' più rapidi, che sono appunto quelli di generazione automatica, sia delle pareti che delle porte, perché ovviamente il disegno che abbiamo sotto è un disegno elettronico. E quindi a questo punto lui sente le linee, diciamo, sente tutti gli oggetti del disegno e possiamo sfruttare questa proprietà per effettuare questa sorta di riconoscimento, eccolo qui, diciamo, degli oggetti, così le porte, così anche le finestre. Quindi stessa procedura, ma nel caso precedente le abbiamo imputate e qui le possiamo far riconoscere dal programma. Per definire poi, cosa importante, le proprietà degli ambienti, e quindi i vani costituenti la nostra unità immobiliare. Quindi magari questo vano qui è un vano studio, dobbiamo dire a chi appartiene quel vano, sempre nel criterio poi di valutazione del livello prestazionale. Qui troveremo tutte le tipologie di vani possibili, previste anche dalla CEA 648, quindi qui individuiamo il vano studio e il programma automaticamente ci dice anche quant'è la superficie in metri quadri di quel determinato ambiente. Da questo momento in poi è possibile attivare anche una vista architettonica, quindi per una rappresentazione più netta, diciamo, del disegno. Quindi questo va fatto per tutti gli ambienti. Adesso magari vi apro un file dove già ho fatto questa operazione, giusto per recuperare in termini di tempo, sono operazioni di tipo ripetitive. Magari è questo il disegno architettonico a cui saremmo arrivati dopo aver disposto tutti i vari ambienti. Per ogni vano c'è anche una caratteristica, che è quella di specificare dei parametri per il calcolo illuminotecnico e come vedremo fra un po' andremo ad effettuare anche in impianto. Quindi qui abbiamo i coefficienti di riflessione sia sul soffitto che sulle pareti che servono proprio per la valutazione poi illuminotecnica. Ma concentriamoci adesso sull'aspetto vero dell'impianto elettrico. Quindi iniziamo ad aggiungere gli oggetti parametrici, per esempio l'alimentazione che potrà essere di tipo TT o di tipo TNS. In questo caso sarà di tipo TT e aggiungiamola sulla tavola. Bene, cosa vuol dire adesso aggiungere un oggetto parametrico? Vedete, la prima cosa che il programma ci chiede quali sono i parametri dell'oggetto. Quindi qui magari abbiamo un nome, possiamo dire che questo è il nostro contatore, un'ulteriore descrizione, la tipologia di calcolo della resistenza di terra, poi ci torneremo dopo, a chi appartiene l'unità questa alimentazione, sempre per il livello prestazionale, e il tipo di connessione, se monofase o trifase. Quindi la potenza di fornitura per fare anche una verifica poi su questo dato. E confermiamo il tutto. Cosa troveremo sulla tavola di impianto? Che si differenzia quindi un po' da quelli che sono i classici CAD elettrici? Praticamente troveremo un punto di inserimento, che praticamente è un punto nello spazio, infatti se attiviamo il 3D questo è un punto nello spazio, e in quel punto nello spazio è presente un qualcosa dell'impianto elettrico. Questo qualcosa viene rappresentato da questa vista di dettaglio, che quindi è la differenza sostanziale poi di impiantus, e con questa vista di dettaglio vogliamo pure farci delle cose, ossia vogliamo poi fare i collegamenti elettrici degli oggetti stessi attraverso questi punti di connessione che trovate qui per ogni oggetto parametrico. In questo caso il punto di connessione come vedete è giallo perché ovviamente è sotto tensione, vuol dire che è l'unico punto alimentato. Queste viste di dettaglio le possiamo spostare liberamente sulla tavola, non saranno quelle che poi noi andremo a stampare, perché quando produrremo i progetti esecutivi, quindi le tavole, in questo punto dell'impianto c'è un oggetto che ha una rappresentazione con un simbolo. Il simbolo, vedete, è una proprietà dell'oggetto parametrico, tant'è che qui c'è la possibilità anche di poter gestire una propria libreria di simboli elettrici e quindi sostituire quel simbolo che noi vi mettiamo di default con un altro simbolo e quindi personalizzarvi anche poi gli esecutivi planerimetrici che andrete a fare. Da questo momento in poi tutti gli oggetti dell'impianto seguiranno questo criterio, quindi se passiamo per esempio al quadro, anche il quadro, vedete, presenta una stessa logica, un punto di inserimento, una vista di dettaglio. Le proprietà del quadro sono proprietà ovviamente diverse rispetto a quelle del punto di alimentazione. In questo caso dobbiamo definire con quale archivio dimensionare le protezioni in quel quadro, dobbiamo definire quali sono le normative da seguire per il dimensionamento dei dispositivi e quindi altre informazioni quali è la tensione e i limiti di contatto per dimensionare i differenziali presenti nel quadro, quindi tutte informazioni specifiche del quadro, la sovratemperatura con quale normativa andarla a valutare e via discorrendo. Quindi come potete vedere ogni oggetto presenta tutta una serie di proprietà specifiche del suo, diciamo, campo di azione. Quindi qui possiamo aggiungere poi altri quadri. Vedete, non abbiamo fatto altro che aggiungere nello spazio degli oggetti. e adesso quello che c'è da fare è appunto una disposizione degli oggetti, di tutti gli oggetti sulla tavola planimetrica. Per esempio, mi soffermo un attimo su quelli che sono i punti luce. Anche i punti luce vanno posizionati sulla tavola e quindi possiamo scegliere tra le varie tipologie di punti luce e cliccare quindi sulla tavola nella posizione che vogliamo. Però magari per i punti luce vogliamo fare una considerazione un po' più avanzata. Vi ho introdotto all'inizio il discorso di luminotecnico. Nel vano studio non abbiamo impostato dei coefficienti di riflessione perché vogliamo fare poi un calcolo di luminotecnico. E dove lo facciamo? Basta semplicemente andare in vista e spostarsi sulla vista illuminotecnica. Vedete che non cambia nulla a livello di architettonico quindi il progetto è quello quindi l'edificio è quello. Non c'è più la parte relativa all'impianto vero e proprio quindi i quadri sono scomparsi. Su questa vista qui vedremo solo la parte dell'illuminotecnico quindi abbiamo qui questo punto luce che non abbiamo ancora classificato ma che bancari possiamo anche togliere e in questa vista sfruttare anche dei meccanismi di disposizione automatica dei punti luce quindi venire qui sfruttare questa finestra di posizionamento laddove bisogna come dire specificare innanzitutto quale sarà il punto luce che vogliamo prevedere ma il punto luce non sarà un semplice simbolo deve essere un oggetto vero e proprio con delle caratteristiche anche tecniche ben precise qui nell'archivio troverete 3F Filippi Artemide e altri produttori di apparecchi illuminanti dove per ciascun apparecchio illuminante come vi dicevo è importante che ci sia anche il diagramma dell'intensità luminosa che è alla base poi del calcolo delle isolux all'interno di quel determinato ambiente quindi tutti i dati questi che noi già vi forniamo con l'archivio oppure come al solito potete nell'archivio utente caricare il file eulum dat che viene fornito generalmente dai produttori di apparecchi illuminanti quindi è possibile anche personalizzarsi quei diagrammi di illuminamento quindi torniamo sul nostro esempio quindi aggiungiamo magari questo apparecchio illuminante che ha questa caratteristica diciamo di illuminamento all'interno di quel vano selezioniamo anche un'apposita lampada e confermiamo quindi scelto il tipo di apparecchio illuminante e il tipo di lampada andiamo a disporre i punti luci magari ne mettiamo tre su due file con delle modalità di disposizione che possiamo scegliere liberamente da queste combo vedete il simbolo è ancora una proprietà diciamo dell'oggetto non è diciamo la sostanza è semplicemente un qualcosa che fa parte di un determinato oggetto ebbene in quest'area vogliamo fare generare la disposizione degli apparecchi eccola qui la disposizione che abbiamo scelto di fare di quegli apparecchi è chiaro adesso che qui non vediamo un simbolo ma vediamo proprio l'apparecchio illuminante reale con le dimensioni reali che è quello diciamo di questo oggetto di questa palafoniera in questo caso ma quanto deve essere illuminato quel vano ebbene questa informazione viene passata sempre attraverso un oggetto parametrico questa volta l'oggetto si chiama superficie compito visivo quindi nel stesso modo andiamo a posizionare quindi nel vano la superficie del compito visivo ossia la superficie da illuminare e diciamo attraverso i parametri di questo oggetto quali devono essere i livelli e quale deve essere il livello di illuminamento da garantire su quella superficie all'interno del programma trovate già tutti i livelli di illuminamento previsti dalla normativa 12.4.6.4 per le varie categorie poi di utilizzo degli ambienti qui trovate vendita al dettaglio vedete tutte quelle previste dalla normativa ciascuna di esse poi presenta delle sottocategorie per esempio nel caso degli uffici abbiamo una zona da illuminare per farci della scrittura o della tattilografia ebbene lì dobbiamo garantire un illuminamento di 500 lux con un coefficiente di uniformità pari a 0.60 quindi magari confermiamo proprio questa circostanza perché trattasi di uno studio e quindi abbiamo detto che cosa? abbiamo detto quali sono le lampade che illuminano quell'ambiente e qual è il livello di illuminamento richiesto cioè 500 lux facciamo immediatamente un calcolo quindi già senza fare null'altro già qui possiamo già valutare cosa abbiamo ottenuto su quel su quel vano possiamo come vedete in questo elenco qui selezionare i vani sui quali fare il calcolo eventualmente e quindi lui immediatamente già ci restituisce vedete un calcolo e una diagnostica dove ci viene segnalato un problema ossia che il livello di illuminamento è soddisfatto ma l'U0 è inferiore a quello previsto quindi praticamente infatti se andiamo a verificare i risultati di calcolo abbiamo un U0 che è 0,46 quello limite è 0,60 abbiamo visto prima ma potete anche capire perché attraverso la visualizzazione delle Isolux che possiamo attivare direttamente in questa vista possiamo osservare quindi che ci sono delle Isolux a 500 lux e una Isolux a 300 con un gradiente vedete che praticamente mi dà problemi sulla uniformità ebbene a questo punto o si spostano le lampade verso il confine oppure magari si va a ridurre leggermente quel compito visivo lo si fa più piccolo magari è questa la strada che andremo a percorrere quindi facciamo un compito visivo più piccolo di quello precedente rifacciamo il calcolo e otteniamo a questo punto ecco qui la verifica del calcolo illuminotecnico questa operazione adesso va a effettuarsi su tutti i vani è chiaro che adesso abbiamo spiegato il meccanismo non staremo lì a fare l'operazione diciamo ci porta via solo del tempo quindi carichiamo un file dove già ho praticamente inserito le lampade anche negli altri ambienti ebbene qui potete a questo punto calcolare su tutti gli ambienti le Isolux e quindi fare una rappresentazione grafica eccola qui delle Isolux per tutti i vani del mio in questo caso edificio residenziale ma in generale ovviamente nei miei ambienti quindi torniamo a questo punto nella vista in pianto perché abbiamo soddisfatto una esigenza che era quella di posizionare i punti luce non li abbiamo posizionati a caso li abbiamo posizionati lì dove servivano e anche con le potenze necessarie perché le lampade che abbiamo scelto hanno una determinata potenza e quindi se andiamo nelle proprietà troveremo per quanto riguarda quella lampada il carico elettrico che si porta dietro poi per il dimensionamento della linea quindi anche nulla viene lasciato al caso a questo punto magari non ci interessa più il discorso delle luci perché vogliamo proseguire per gli altri oggetti potremo anche chiedere l'impianto e si di nascondere i punti luci quindi attraverso questo potente configuratore di visibilità possiamo scegliere cose visualizzare quali sono le viste di dettaglio da visualizzare notiamo che i punti di inserimento non scompagnano mai perché lì c'è qualcosa dell'impianto non sappiamo cos'è perché abbiamo nascosto la vista di dettaglio però comunque ci serve per alleggerire la vista e procedere ad inserire gli altri oggetti che possono essere per esempio i comandi aggiungiamo per dire i pulsanti nei vari ambienti per comandare le lampade magari qui aggiungiamo un pulsante magari ne aggiungiamo alcuni altri in questo vano quindi abbiamo come dire predisposto i punti di comando delle lampade di questo soggiorno ebbene che cosa abbiamo aggiunto nella tavola anche qui non abbiamo aggiunto un simbolo abbiamo aggiunto una cassetta frutti vedete questo è un oggetto che è un determinato articolo quindi posso anche scegliere all'interno dell'archivio di quale produttore mettere quella cassetta frutti che caratteristiche deve avere in questo caso c'è una scatola a tre posti tutte proprietà specifiche di quell'oggetto e anche il pulsante ovviamente che presenta ulteriori caratteristiche una caratteristica del pulsante noterete è il pallino grigio che diversamente da quel pallino che abbiamo visto prima sull'alimentazione che era giallo in questo caso non è alimentato quindi non c'è tensione in quel punto va ad essere utilizzato per collegare per essere collegato con un cavo con una parte in tensione a questo punto quello che dobbiamo fare non è altro che aggiungere come vi dicevo i vari oggetti per esempio aggiungere diciamo un interruttore bipolare qui in cucina vengono venite qui aggiungere un interruttore bipolare quindi vado a posizionarmi i miei oggetti le prese analogamente quindi prese con contatto di protezione le vado ad aggiungere sulla tavola ebbene ovviamente l'unica cosa da stare attenti è praticamente la quota di posizionamento nello spazio magari questa cassetta frutti della presa la mettiamo a 40 cm dal pavimento anche perché poi noi vogliamo collegare questi oggetti con dei corrugati con delle canaline quindi se le andiamo a disegnare correttamente nello spazio potremo calcolare correttamente anche la lunghezza di queste condutture che poi fra un attimo andremo a mettere quindi come vi dicevo il compito attuale è quello di posizionare gli oggetti parametrici sulla tavola di qualsiasi tipo anche quelli diciamo degli impianti ausiliari anche gli impianti di V vedete qui abbiamo non so un derivatore un divisore di piano per portare il segnale di antenna all'interno dell'appartamento ebbene aggiungiamo anche questo oggetto che poi ci servirà per fare i collegamenti alle prese tv che saranno presenti all'interno del nostro del nostro impianto e per quanto riguarda questi oggetti notiamo che il punto di connessione non è più circolare è quadrato perché andrà ad essere utilizzato per collegare attraverso dei cavi che non sono quelli di potenza ma quelli di di segnale quindi una piccola differenza anche diciamo operativa per fare i collegamenti elettrici di questi di questi oggetti ma andiamo avanti quindi carichiamo a questo punto il file come vi dicevo dove già ho inserito un po' diciamo i vari elementi sulla tavola planimetrica eccola qui magari una disposizione a cui si sarebbe arrivati facendo le aggiunte degli oggetti del nostro impianto ecco questo è quello che avremmo ottenuto a questo punto vi dicevo dovremmo dobbiamo collegare i vari contenitori con le condutture che possono essere corrugati oppure canaline ebbene anche qui l'operazione viene fatta sempre con un oggetto parametrico questa volta l'oggetto si chiama percorso e può essere disegnato in modo diretto a parete a pavimento a soffitto oppure diciamo verticale o addirittura un percorso virtuale ossia un percorso nel quale saremmo noi a digitare la lunghezza diciamo del percorso stesso perché tutti gli altri sarà il programma a leggere la dimensione direttamente dalla piantina sostanzialmente per esempio vogliamo collegare con un percorso a parete proprio questo punto di inizio dell'impianto ossia il contatore con il primo quadro che è questo quadro qui magari il nostro quadro generale magari ce ne andiamo ad un'altezza di 2 metri e 50 che cosa abbiamo fatto sostanzialmente abbiamo tracciato questo collegamento tra il contatore e il quadro magari poi ci accorgiamo in pianta che non è proprio il massimo possiamo però trattare il tutto come se fosse una linea quindi con una polilinea inseriamo un punto intermedio e andiamo a migliorare un attimo la disposizione del percorso e quindi otteniamo questo tracciamento ok diciamo di linea e all'interno di questa traccia che cosa vogliamo predisporre bene siamo sempre noi a decidere lo possiamo aggiungere quindi una conduttura e questa conduttura potrà essere o un corrugato cosa che abbiamo messo di default oppure possiamo scegliere anche diciamo condutture di tipo diverso può essere un tubo flessibile oppure un tubo rigido quindi quello che vogliamo prevedere per collegare la cosa importante da non sottovalutare è la dimensione di questo dell'oggetto che andiamo a predisporre quindi la dimensione o meglio la capienza che poi avrà questa conduttura in termini di di fasci cavi perché il programma deve calcolare alla fine anche lo stipamento della conduttura e quindi fare una verifica se quello stipamento rispetta diciamo i limiti normativi oppure magari oppure no e quindi intervenire in quel punto per cambiare il tipo di di conduttura ma questo lo vedremo anche dopo quando avremo messo anche i cavi a questo punto non dobbiamo far altro che collegare i vari contenitori con le varie i vari tipologie di percorsi quindi qui da questo quadro posso collegare l'altro quadro vedete con un percorso a pavimento semplicemente senza fare alcuno sforzo logico quindi io non mi devo preoccupare di andare a posizionare la linea nel punto in cui voglio ragiono sempre sulle viste di dettaglio quindi se io devo collegare con un percorso a parete questo quadro con questa cassetta di derivazione ebbene io mi posiziono sul quadro lui capisce dove deve andare vedete nel punto di inserimento e mi fermo sulla relativa sulla relativa viste di dettaglio quindi la comodità di utilizzare le viste di dettaglio nel tracciare i percorsi così non posso sbagliare io una volta posizionati bene gli oggetti poi i collegamenti li faccio veramente in modo molto facile e preciso e veloce quindi dicevo fare tutti i collegamenti dei percorsi magari per avanzare un po' nell'impianto carichiamo il file con i percorsi eccole qui già tracciati quindi abbiamo creato un po' quella che è l'ossatura dell'impianto quindi con tutti i vari corrugati già inseriti all'interno dell'impianto per passare poi alla stesura tra virgolette dei cavi quindi anche per i cavi e qui torna utile la vista di dettaglio ancora una volta utilizziamo un oggetto parametrico eccoli qui gli oggetti parametrici per i collegamenti elettrici abbiamo il fascio cavi il condotto sbarre per i collegamenti di potenza quindi il conduttore di protezione e questa sezione qui per collegare gli oggetti dell'impianto di terra e poi tutta una serie di cavistica per collegare gli oggetti degli impianti ausiliari antenna reti e quant'altro quindi in questo caso utilizziamo il fascio cavi per collegare quindi l'alimentazione con il quadro quindi portiamo il cavo all'interno del quadro vedete il programma a questo punto si predispone per fare che cosa per creare per darmi la possibilità di creare quello che è lo schema unifilare del quadro attraverso sempre degli oggetti parametrici che troviamo qui in questa turba e quindi posso magari prevedere un magnetotermico che sarà un mio dispositivo di protezione generale dopodiché magari prevedere per esempio due differenziali quindi modificare la rappresentazione anche dello schema magari lo facciamo in questo modo se un dispositivo non ha l'uscita in morsettiere quindi l'uscita nel quadro la possiamo anche togliere e quindi rinominare anche gli altri dispositivi magari questo è il magnetotermico differenziale a protezione dell'ufficio l'altro invece è un magnetotermico differenziale a protezione dell'abitazione e quindi lo vado ad etichettare in questo modo e ciascuno di questi oggetti che è anch'esso parametrico deve essere poi dimensionato ebbene anche qui possiamo farlo dimensionare direttamente dal programma quindi impostando il dimensionamento automatico oppure in modalità semi-automatica saremo noi a scegliere un dispositivo poi sarà il programma comunque a fare il calcolo e se quel dispositivo dovesse andare bene lo tiene se non dovesse andare bene è autorizzato a sostituirlo appunto in automatico nella modalità manuale invece siamo noi a scegliere l'archivio a scegliere il dispositivo da selezionare da predisporre in quel punto il programma anche in quel caso farà il calcolo ma se non dovesse andare bene non è autorizzato a sostituirlo ma deve segnalarci in diagnostica che quello non va bene quindi praticamente sono tre modalità diverse il consiglio è quello sempre di scegliere un dimensionamento automatico e poi in una seconda battuta intervenire per le modifiche diciamo fatte da noi quindi non dalla macchina perché comunque la macchina può fare scelte che a noi non potrebbero piacere a questo punto possiamo articolare come dire lo schema unifilare magari qui abbiamo la linea luci dell'ufficio quindi qui abbiamo le luci dell'ufficio qui abbiamo magari le prese dell'ufficio e quindi possiamo andare a schematizzare tutti gli altri oggetti che saranno presenti nel nostro quadro cosa otteniamo all'esterno del quadro quindi come potete vedere alla semplice vista di dettaglio che avevamo in precedenza si sono aggiunti i punti di connessione delle linee questa volta gialli che possiamo utilizzare per come dire distribuirle all'interno del nostro impianto quindi attraverso sempre il fascio cavi che è l'oggetto da utilizzare in questo frangente andiamo a portare la linea dell'abitazione da questo quadro all'altro quadro appunto nell'abitazione che era quello lì sulla destra anche qui diciamo andremo a schematizzare un altro schema unifilare di un altro quadro quindi abbiamo fatto un quadro principale un quadro secondario magari qui anche qui prevederemo un generale di questo diciamo abitazione quindi qui avremo generale abitazione e qui abbiamo anche qui le luci dell'abitazione le prese della locale abitazione quindi praticamente abbiamo dettagliato ulteriormente il nostro sezionato ulteriormente l'impianto ma siamo arrivati a questo punto perché abbiamo tracciato abbiamo visto dei cavi il cavo anch'esso è un oggetto parametrico che va dimensionato lo possiamo dimensionare sempre in modo automatico semi-automatico e manuale alla stessa stregua diciamo di quello detto per i dispositivi di protezione per i cavi vanno specificate poi ulteriori proprietà la disegnazione il tipo di cavo eccetera ma il programma vi mette a disposizione tutte le scelte che è possibile che si possono fare per definire quindi le sezioni poi dei relativi dei relativi diciamo conduttori a questo punto non ci rimane che effettuare il collegamento come dire la distribuzione delle montanti e il collegamento dei circuiti terminali quindi andiamo a prendere sempre l'oggetto fascio cavi per esempio per le luci prendiamo l'uscita del quadro della luce abitazione e magari la rendiamo disponibile all'interno di una cassetta di derivazione vedete che il programma automaticamente che cosa fa individua sostanzialmente quello che è il percorso più breve per raggiungere quella determinata destinazione e se durante il percorso diciamo trova come dire dei contenitori ebbene ci passa dentro e quelli qui i passaggi che ha fatto del cavo all'interno di queste cassette di derivazione se a noi serve derivare da quel punto ma sicuramente sì dei collegamenti per portare la linea in altri punti non dobbiamo far altro che dividere il fascio cavi in quel punto quindi con l'oggetto fascio cavi poi andare a distribuire la linea in altri punti dell'impianto quindi questo è il modo di come dire creare quella che è la dorsale della linea luci del nostro impianto è chiaro che poi una volta creata la dorsale dobbiamo concentrarci anche sul collegamento dei circuiti terminali per creare una logica di comando tra gli oggetti che ci può tornare utile nel fare poi anche i progetti esecutivi ebbene anche in questo caso basta capire il meccanismo qui abbiamo dei pulsanti quindi dobbiamo utilizzare dei relay per comandare quelle lampade in quel soggiorno posizioniamo il relay in questa cassetta di derivazione colleghiamo il relay alla montante diciamo alla linea delle luci e poi andiamo a dire quali sono i pulsanti che dovranno comandare quel relay ebbene qui c'è un altro pulsante un altro diciamo punto di connessione che è quello con il doppio cerchietto che serve proprio per l'indicazione dei pulsanti qui possiamo collegarli anche in serie e quindi andiamo a collegare tra di loro i pulsanti che dovranno comandare il relay vedete questa operazione non è altro è sì un'associazione logica ma significa anche tracciare dei cavi perché ovviamente io devo collegare questo pulsante con quel relay attraverso un cavo che sarà composto vedete da due cavi in questo caso che ha una sezione da due e mezzo ma non è ancora stata definita poi la sezione sarà dimensionata in fase appunto di calcolo quindi quella non è ancora una sezione attendibile quello che dobbiamo fare adesso è collegare il carico che quel relay deve comandare bene qui i carichi erano le lampade non le vediamo e a questo punto torna utile di nuovo accendere la vista di dettaglio dei punti luce adesso sì che ci serve e quindi con il fascio cavi andare sul relay e indicare quale deve essere la vedere io dico indicare quale deve essere la lampada diciamo da collegare perché poi il programma che traccerà il cavo all'interno dei percorsi che prima abbiamo tracciato quindi qui possiamo collegare in parallelo le altre le altre lampade qui inseriamo un ulteriore punto di connessione per collegare quest'altra lampada e quindi vedete abbiamo mi fermo qui diciamo l'abbiamo capito il meccanismo abbiamo collegato quelle lampade a chi è quel relay che è comandato da chi? da quei pulsanti da quei pulsanti ebbene vedete che le informazioni non si perdono più adesso io posso interrogare un pulsante e lui nelle proprietà già ha capito quali sono gli oggetti che deve comandare quindi quelle lampade in cui quelle tre lampade che abbiamo collegato osserviamo anche un'altra cosa nel momento in cui si fanno i collegamenti elettrici tutti gli oggetti che appartengono allo stesso circuito terminale oppure allo stesso circuito diciamo generale vengono a colorarsi di blu quindi se io seleziono vedete un qualsiasi oggetto di questo circuito tutto ciò che viene collegato con quel pulsante si colora di blu quindi anche dalla linea generale posso individuare quali sono gli oggetti che in questo momento appartengono a quella linea quella linea luci quindi questo torna molto comodo anche visivamente per fare dei controlli come vedremo fra un attimo e quindi a questo punto posso concentrarmi anche sul collegamento del circuito prese quindi vedete io lascio fare questo collegamento al programma ebbene lui mi porta questo cavo direttamente sulla presa che è diciamo un oggetto elettrico che ha un carico ben definito questa è una presa da 16 ampere quindi anche le proprietà potete vedere che non vengono trascurate a una certa corrente di impiego in funzione del coefficiente di utilizzo che noi possiamo impostare e qui andare anche a modificare e magari andare a ripartire sostanzialmente la linea delle prese anche in altre zone dell'impianto quindi andiamo a selezionare da questa cassetta di derivazione direttamente il capo per quella presa in quella cucina e quindi osserviamo come il programma individua il tracciato da seguire per arrivare in quel punto dell'impianto e quindi abbiamo come dire effettuato anche questo collegamento tra tra questi oggetti questo adesso è il modo di procedere per collegare le parti diciamo dell'impianto dell'impianto elettrico per quanto riguarda gli impianti ausiliari avevamo lì un impianto di antenna faccio vedere più o meno come si opera ma l'abbiamo capito il meccanismo selezioniamo il cavo coassiale questa volta quindi il cavo dati è diverso come proprietà dal cavo elettrico magari qui abbiamo un divisore per l'impianto di antenna da questo divisore possiamo portare il cavo all'antenna alla presa di V quindi anche qui il meccanismo non cambia l'unica cosa che in questo corrugato questa volta non ci sarà un cavo elettrico ma un cavo coassiale quindi come potete vedere possiamo scendere anche a questo livello di dettaglio per gli impianti ausiliari per gli impianti dati fatti vari collegamenti quindi vi apro il file dove questi collegamenti già ovviamente li ho fatti giusto per recuperare un po' di tempo nella presentazione ma sono operazioni di tipo ripetitivo ebbene questo adesso è il file sul quale i collegamenti elettrici sono stati fatti vedete anche le colorazioni dei vari circuiti le posso cambiare direttamente sulla linea in uscita dal quadro possiamo attivare dei colori in modo tale da vederli in maniera diversa ma una volta collegati torna utile anche un'altra funzionalità del software che è quella di gestire una visibilità degli oggetti per circuito quindi io posso direttamente agendo su questa toolbox dire di spegnere tutti gli oggetti appartenenti al circuito lucido dell'abitazione di spegnermi le viste di dettaglio per esempio del circuito lucido dell'ufficio quindi vedete si sono spente tutte le lampade con i pulsanti eccetera di questi due uffici e questo può essere anche un po' una diagnostica visiva che ci può aiutare a vedere se qualcosa è rimasto in sospeso nel collegamento infatti notiamo immediatamente che qui in cucina c'è una lampada lì all'uscita che è senza essere connessa è rimasta accesa tra virgolette perché non connessa ancora al circuito lucido dell'abitazione questo è un modo di sfruttare anche una diagnostica visiva ma sicuramente torna più comodo come dire più veloce fare fare al programma una diagnostica approfondita diciamo dei vari collegamenti che abbiamo fatto quindi dei vari oggetti che abbiamo collegato e quant'altro e quindi lui ci sa dire già tutto quello che ha trovato all'interno del del modello dell'impianto che abbiamo creato ci sono tutta una serie di warning che sono diciamo dei messaggi di attenzione che non alterano come dire il buon esito del calcolo diciamo quindi con i warning il calcolo comunque può essere fatto diciamo in caso di errori invece il calcolo non sarebbe stato possibile effettuarlo però in questo caso possiamo anche effettuare bene qui vedete che c'è l'oggetto balcone luce balcone che non è alimentata è proprio quell'oggetto che avevamo individuato poco fa quindi possiamo prevedere anche a collegarlo e quindi risolvere uno di quelle diciamo anomalie che ci vengono segnalate dalla diagnostica supponiamo allora di voler accettare tutte le altre perché magari non le vogliamo in questo momento considerare possiamo quindi procedere a un dimensionamento quindi adesso dimensionare l'impianto elettrico cosa vuol dire vuol dire quindi andare a individuare quelli che sono i dispositivi di protezione adatti per proteggere le linee quindi calcolare le correnti di cortocircuito calcolare le cadute di tensione e quindi dimensionare la sezione dei cavi in funzione sia del carico sia delle cadute di tensione che si vanno ad ottenere e tutti i dati che lui ha calcolato sono disponibili immediatamente nel toolbox risultati per ogni oggetto selezionabile sulla tavola quindi io qui ho selezionato adesso il magnetotermico l'interruttore magnetotermico delle luci abitazione ebbene trovo immediatamente a destra tutti i risultati di calcolo quindi qui abbiamo la corrente di impiego la corrente di innesco magnetico la portata del cavo e quindi la corrente di cortocircuito che lui ha calcolato lungo la linea che è 1,4 e quindi sicuramente inferiore al potere di interruzione del dispositivo scelto la caduta di tensione massima a valle e diciamo andando sulla parte delle proprietà visualizzare anche quella che è la curva diciamo di intersezione tra come dire l'energia passante del dispositivo e la curva del cavo quindi possiamo osservare che l'energia in caso di cortocircuito che può avvenire in questo intervallo di correnti come abbiamo detto sicuramente il cavo sopporta diciamo l'energia che il dispositivo fa passare per cui il dimensionamento è fatto in modo corretto quindi questa è un primo diciamo una prima analisi dei risultati è chiaro che io posso come vi dicevo interrogare i risultati su ciascun oggetto selezionabile quindi in questo punto di connessione voglio conoscere qual è la caduta di tensione ce l'ho voglio conoscere le correnti di cortocircuito ce l'ho qui direttamente disponibili in quel punto relativamente alle cadute di tensione c'è anche un'ulteriore possibilità possiamo interrogare velocemente con questa vista diciamo tabellare anche quali sono le cadute di tensione i livelli di cadute di tensione lungo tutto l'arco dell'impianto quindi osservare come ad esempio ci sono dei punti in cui la caduta di tensione supera o meglio arriva quasi al limite 3,86% quindi questa vista ci aiuta a indagare se ci sono dei punti dell'impianto con cadute di tensione elevate in questo caso si c'è è questo cavo FC57 e attraverso la vista tabellare della stessa griglia possiamo individuare anche qual è l'oggetto collegato questa presa PS17 e quindi andare sull'impianto attraverso anche la ricerca che il programma ci mette a disposizione vedete qui abbiamo il toolbox cerca possiamo individuare qual è la presa che ha quella caduta di tensione ebbene eccola qui diciamo quindi abbiamo individuato quello che è l'oggetto dell'impianto elettrico che ha la maggiore perdita in termini di tensione quindi praticamente dobbiamo vedere bene poi se quella caduta di tensione ci sta bene in quel punto oppure se dobbiamo aggiungere lì un carico che non può diciamo sopportare un abbassamento di tensione oltre un certo limite dobbiamo anche prevedere di modificare la linea per tamponare questa caduta di tensione così alta sostanzialmente quindi che è proprio il limite poi normativo che è il 4% quindi queste considerazioni che si possono fare utilizzando questa comoda vista diciamo sintetica di tutte le cadute di tensione ma torniamo ancora sui risultati di calcolo abbiamo detto che il programma doveva calcolare anche lo stipamento ebbene lui lo ha fatto possiamo quindi andare a interrogare attraverso questa schermata come è andata diciamo la gestione dello stipamento quindi facciamogli visualizzare solo i percorsi che hanno delle anomalie ebbene osserviamo per esempio a colpo d'occhio che qui c'è un percorso il CO55 che ha delle condutture che non soddisfano lo stipamento massimo con più fasci cave quindi all'interno di queste condutture ci sono più fasci cave che non soddisfano lo stipamento siamo al 34% il limite che abbiamo imposto è il 30% così come consigliato anche dalla normativa in questo caso o andiamo a cambiare il corrugato ne mettiamo uno più grande oppure magari possiamo far fare qualcosa al programma in automatico ossia andare a gestire la condizione e lui l'ha gestita aggiungendo in automatico un altro corrugato sempre da 20 e quindi andando a sistemare a riequilibrare le percentuali di stipamento sui due a questo punto corrugati possiamo poi fare noi delle scelte puntuali però in quel caso dovremmo risettare il dimensionamento e quindi andare per esempio a fare delle scelte puntuali in questo punto dove c'è un unico cavo all'interno del corrugato quindi qui l'unica soluzione che abbiamo a disposizione è quella di poter di dover mettere un corrugato più grande di diametro e quindi soddisfare lo stipamento quindi potete fare tutti questi accorgimenti anche per gestire lo stipamento delle condutture torniamo quindi a fare il dimensionamento laddove poi ci troviamo di fronte a un impianto un po' più compresso e vogliamo gestire la selettività il programma ci mette anche a disposizione la possibilità di gestire la coordinazione di selettività e di backup tra i vari dispositivi e quindi anche questa diciamo ulteriore considerazione non viene lasciata al caso quindi definito anche il dimensionamento e quindi tutto ciò che ci interessava possiamo procedere adesso alla stesura della documentazione del nostro progetto quindi praticamente andare a per esempio gestire i fronte quadro quindi il programma ci mette a disposizione questo strumento per sempre integrato nel programma effettuare la schematizzazione del fronte quadro basta selezionare un quadro tra virgolette reale all'interno dell'archivio sempre che abbiamo a disposizione magari scegliamo un centralino del laticino che ha 24 din e in questo caso perché abbiamo ce la facciamo con i din che ci servono andiamo a generare una disposizione automatica e vedete come il programma mi dispone diciamo i vari oggetti in questo schema che posso anche modificare volendo quindi posso anche spostare diciamo dei magnetotermici oppure degli oggetti all'interno di quel pannello oppure magari toglierlo del tutto a cancellarlo e quindi personalizzarlo a piacimento ovviamente la cosa comoda è che qui ho in basso un albero elettrico dove vado a individuare tutti i quadri del mio impianto quindi non devo andare alla ricerca dei quadri ce li ho tutti qui elencati basta fare la stessa operazione anche sugli altri quadri e quindi in un colpo fare anche tutti i fronti quadro dei vari quadri che ci sono all'interno del mio impianto quindi vedete com'è comodo questa vista sintetica avevamo all'inizio detto che volevamo valutare il livello prestazionale ebbene adesso il programma conosce diciamo tutte le dotazioni di oggetti all'interno dei vari ambienti che abbiamo ovviamente definito lì sulla tavola conosce anche i circuiti disponibili quindi ci esce a dire anche qual è il livello di progetto ottenuto ossia il livello base noi potremmo anche chiedere al programma se possiamo soddisfare il livello standard ebbene lui immediatamente ci restituisce un messaggio di niego nel senso che la configurazione non soddisfa il livello standard però ci dice anche il perché quindi nelle verifiche possiamo come dire individuare quali sono le dotazioni che mancano per raggiungere quel livello prestazionale quindi stampare questo elenco andare dal committente e dire guarda se vogliamo raggiungere un livello prestazionale maggiore dobbiamo come dire raggiungere ulteriori dotazioni che significa ovviamente avere un impianto più costoso supponiamo che i soldi non ci sono vogliamo un livello un livello base quindi ci accontentiamo di questo livello ma veniamo adesso al punto diciamo fondamentale ossia quello della produzione dei progetti esecutivi vi ho detto all'inizio che noi avremmo creato andavamo a creare quello che era la tavola cioè il modello dell'impianto ebbene qui adesso nel nodo progetti esecutivi andremo a fare quello che faremo generalmente con un CAD ossia la rappresentazione planimetrica dei vari simboli quindi attraverso queste opzioni di disegno che il programma ci mette a disposizione noi possiamo decidere su questo progetto esecutivo cosa vogliamo rappresentare quindi per esempio vogliamo fare una tavola un esecutivo dove rappresentare solo i punti luce magari anche quadriuvati con gli appositi comandi togliendo anche lo sfondo perché magari non ci serve più a questo livello e quindi ottenere eccolo qui un primo elaborato planimetrico che ripeto è quello che noi avremmo fatto con un semplice CAD quindi il prodotto diciamo del CAD magari possiamo ridurre quella leggenda che in automatico il programma ci viene a disporre perché ovviamente la possiamo sempre impostare nelle condizioni di parametrizzazione su questo configuratore quindi lo andiamo a diminuire di grandezza ebbene otteniamo il nostro elaborato planimetrico con la rappresentazione questa volta sì dei simboli quindi qui abbiamo adesso i simboli vedete diciamo delle lampade degli interruttori polari e osserviamo che ancora stiamo lavorando su un CAD quindi non abbiamo un'immagine ma possiamo ancora fare delle scelte qualitative quindi fare degli spostamenti diciamo migliorare la resa grafica del nostro schema e procedere poi alla redazione di tutti gli esecutivi che si vuole quindi qui possiamo per esempio duplicare il progetto esecutivo delle luci aggiungere sostanzialmente allo stesso esecutivo la rappresentazione dei cavi quindi aggiungiamo ulteriori informazioni da produrre anche per l'elettricista oppure chi dovrà poi ricevere quel materiale indichiamo che cosa vogliamo che sia rappresentato sull'esecutivo magari qui andiamo a dire indicare la formazione dei fasci cavo quindi otteniamo eccola qui la rappresentazione anche della formazione dei cavi all'interno dei percorsi come vi dicevo questo è sempre un CAD e qui abbiamo dei simboli che io vado anche a modificare vedete me li vado a spostare eccetera ma è pur vero che però è un disegno che è vincolato ed è legato al modello dell'impianto che abbiamo fatto sopra quindi se io decidessi diciamo domani mattina di venire qui e togliere questa lampada ebbene qui non lo posso fare perché il programma a questo CAD non mi dà la possibilità di cancellare dei simboli però se io dovessi cancellare questo punto luce qui all'interno della cucina dovrei andare sulla tavola quindi devo fare la modifica al modello dell'impianto quindi resetto anche il calcolo quindi vedete io vado a togliere un elemento dell'impianto il che non significa semplicemente togliere un simbolo significa togliere un elemento dell'impianto che aveva delle funzionalità quindi in quel caso mi serviva per il calcolo illuminotecnico quindi se io devo fare un calcolo exa nuovo di quel modello ebbene questa modifica che ho fatto risentirà si ripercuoterà ovviamente sul calcolo illuminotecnico per cui comporta delle conseguenze il modello è cambiato gli esecutivi però non si sono persi li abbiamo sempre qui e tutt'al più si sono modificati ecco diciamo la modifica che è avvenuta automaticamente non troverò più praticamente il punto luce che non fa parte più di quell'impianto però diciamo ovviamente a spesa del calcolo che non è più adesso coerente perché lì la verifica in quell'ambiente non è più soddisfatta di questi esecutivi se ne possono fare quanti se ne vuole quindi qui c'è un elenco potete gestire un elenco di progetti esecutivi tranquillamente quindi stamparli oppure esportarli addirittura in formato CAD perché ogni esecutivo è un disegno come vi dicevo a tutti gli effetti quindi è possibile esportarlo anche in vari formati diciamo sia CAD ma anche immagine ecco qui diciamo sia CAD che immagine quindi potete tranquillamente gestirli anche esternamente da impianto andiamo avanti quindi andiamo a produrre gli altri elaborati tecnici quali per esempio gli schemi dei quadri abbiamo generato gli schemi unifilari e quelli qui li andiamo anche in questo caso a stampare oppure esportare in formato DXF o DVG ecco qui possiamo quindi modificare praticamente anche il cartiglio di questi schemi unifilari da poter stampare oppure come vi dicevo esportare in formato DXF o DVG possiamo produrre anche tutti i documenti necessari qual è la relazione tecnica per la quale possiamo scegliere o il modello standard che noi vi già vi forniamo oppure potete anche modificare il modello della relazione tecnica andando alla gestione modelli appunto dei vari documenti che qui vi mettiamo a disposizione quindi dalla relazione tecnica voi potete partire dalla relazione standard oppure crearvi una vostra relazione tecnica personalizzata sulla quale potete scrivere le vostre considerazioni eccetera magari avete una struttura di relazione tecnica che è in genere utilizzata la personalizzate quindi nella compilazione della relazione tecnica ma come anche per gli altri tipi di documenti potete scegliere un modello diverso potete modificare gli stili di stampa e quindi anche eventualmente modificare la testata di presentazione del documento quindi compilare in questo caso in automatico il documento ecco qui il documento che lui ci genera sulla base di quei modelli ecco questo è quello che avevamo personalizzato e quindi andare a ripirocare un po' tutto ciò che riguarda la progettazione del nostro del nostro impianto qui possiamo poi compilare il documento per la sovratemperatura laddove avessimo fatto la verifica ovviamente della sovratemperatura nei quadri operazione questa che si fa dove ovviamente sempre al livello del quadro quindi sul quadro nelle proprietà del quadro vado a gestire la verifica della sovratemperatura e quindi vado a verificare appunto che la sovratemperatura in questo caso la potenza dissipabile è compatibile con la potenza dell'involucro in questo caso sì perché abbiamo 59 watt a fronte di 37 prodotte diciamo dai dispositivi internamente al centralino quindi possiamo andare a compilare l'esito diciamo della nostra verifica direttamente ecco qui con un documento che ci riporta la verifica della sovratemperatura come anche poter compilare il livello il documento che attesta del livello prestazionale che abbiamo prima ecco qui ottenuto nella fase precedente anche da relazione luminotecnica quindi abbiamo realizzato il calcolo quindi possiamo ottenere l'elaborato di calcolo con i dettagli diciamo per ogni ambiente eccetera diciamo del nostro documento eccolo qui diciamo possiamo quindi stampare anch'esso possiamo stampare una lista materiali diciamo generati in automatico dal programma sulla base ovviamente di quelli che sono gli oggetti presenti nell'impianto un po' la lista della spesa oppure diciamo spingerci un po' più avanti e generare un vero e proprio computometrico dell'impianto realizzato quindi un documento di computo per fare una stima così come siamo abituati a fare diciamo dei nostri impianti dove il programma ci destituisce in automatico tutte le quantità e ci mette i prezzi ovviamente a zero perché i prezzi possono cambiare dei vari oggetti ma attraverso quest'altra funzione che il programma ci mette a disposizione di aggiornamento dei prezzi possiamo magari indicare di aggiornare i prezzi per dire di uno dei produttori facciamo un esempio sul biticino quindi diciamo al programma di aggiornare i prezzi dei componenti della biticino presenti all'interno dell'impianto quindi il programma a questo punto andrà a vedere all'interno di quell'estino prezzi se ci sono i prezzi appunto dei componenti che ha utilizzato che prevede il nostro impianto laddove trova corrispondenza del codice di tariffa quindi acquisisce il prezzo e ce lo riporta direttamente all'interno dell'archivio documento eccolo qui diciamo ecco i prezzi diciamo dei componenti biticino quindi se andiamo a generare nuovamente il computometrico del nostro impianto questa volta comprensivo anche di prezzi otterremo oltre alle quantità anche i prezzi e quindi una stima diciamo già iniziale a dire che solo di biticino questo impianto verrebbe 1348 euro quindi possiamo già fare una stima una stima economica quindi praticamente come avete visto abbiamo generato tutta una serie di documenti partendo diciamo dal modello dell'impianto elettrico quando abbiamo terminato come dire le operazioni sull'impianto possiamo salvare il tutto in un unico file in formato impiantus quindi tutto ciò che noi andremo a trovare sul nostro disco sarà un unico file di formato imps quindi domani che dobbiamo ritornare a fare delle modifiche apriamo quel file e possiamo in un colpo apportare le modifiche sul modello e aggiornare tutti i documenti che ne che ne conseguono bene quindi questo diciamo per quanto riguarda la fase di progettazione se poi vogliamo passare i dati al praticus per fare la dichiarazione di conformità basta semplicemente copiare i dati nel programma praticus e quindi gestire poi lì anche la parte di conformità dell'impianto elettrico per fare